Questa settimana si osserva un'ulteriore lieve flessione del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e l'incidenza di fatto raggiunge i 58 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra un'ulteriore lieve flessione, siamo a 0,68 quindi ben al di sotto della soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 5,8% e all'1,8%, quindi si osserva un'ulteriore flessione dell'occupazione delle strutture sanitarie. Quindi tutti gli indicatori mostrano una sostanziale tendenza al miglioramento e per il momento la situazione appare sotto controllo.